E' questo il Bernabeu che si ritroverà l'Inter. Un stadio in costruzione, questa torre che vedete è completamente differente rispetto alle torri prima. Sono state distrutte le torri precedenti, costruite con le nuove e continua ovviamente l'opera di rinnovo. Probabilmente farà suonare qualche campanella in casa Inter, comunque c'è da concentrarsi su qualcos'altro. Un primo posto in questo del Madrid-Inter in palio che in verità è molto più importante di quanto non sembri. Anche se tanto Madrid quanto Inter sono già negli ottavi di finale, ti può cambiare la prospettiva totale della Champions della stagione. E' vero che anche da primo o da secondo puoi beccare un avversario ostico nel sorteggio, ma diciamo che la proporzione si ribalta da un 30 al 70%. Simone Inzaghi può confermare quasi tutta la squadra che ha stravinto contro la Roma. Mancherà soltanto Correa infortunato ai flessori della coscia destra, probabilmente per lui il 2021 finito, ma probabilmente avrebbe comunque giocato Lautaro Martinez. Si è aggiunto De Frai nell'allenamento della mattina a Milano, da vedere se sarà pronto già per la partita. Alle 19 l'Inter si allena invece qua al Bernabeu. Il problema più grosso invece ce l'ha Carlo Ancelotti perché Benzema non sarà della partita. Si è già uscito per precauzione nello sconto al vertice contro la Real Sociedad sabato scorso. Bisogna ricordare anche un'altra cosa. Il Real Madrid ha il derby con l'Atletico che arriva e nonostante abbia un pazzesco più otto sul Sivilla in campionato, vincere il derby sembrerebbe dare quasi una botta definitiva al titolo per la Liga. Ecco, su questa distrazione può lavorare Simone Inzaghi. Carlo Ancelotti, come ha detto, può lavorare anche in conferenza, può lavorare anche sull'imitare Brozovic, sulla fase senza palla dell'Inter e anche sui ricordi lasciati in Italia. Quando gli abbiamo ricordato insomma come è andata male, come è finita male con il Napoli, Ancelotti ha detto io almeno li ho portati negli ottavi di Champions. Tancredi Palmeri, Sport Italia, Santiago Bernabeu.